Ciao ragazzi bentornati su top prodotti recensioni prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Oggi andremo a vedere i migliori televisori da 43 pollici su Amazon. In quinta posizione troviamo la Smart TV da 43 pollici Isense 4K HDR10+, disponibile con singolo o doppio stand d'appoggio, ti consente di riprodurre contenuti HDR e HDR10+, da sorgenti compatibili, offre neri più scuri e bianchi più luminosi per goderti la televisione con un contrasto migliore, frequenza di aggiornamento di 60. Disponibili tutte le applicazioni migliori con Alexa integrata, sempre più intelligente per una maggiore comodità, si adatta ai tuoi schemi linguistici, al tuo vocabolario e alle tue preferenze, con l'aggiunta continua di nuove funzionalità, trovi il link in descrizione. In quarta posizione troviamo il televisore LG da 43 pollici 4K disponibile fino ai 70 pollici, immagini ancora più realistiche con una risoluzione 4 volte maggiore di quella del Full HD, Filmmaker Mode riproduce fedelmente le immagini così come sono state pensate dai registi, per vivere un'esperienza veramente cinematografica, disponibili tutte le principali applicazioni per goderti al massimo il televisore, Alexa integrata per migliorare ancora di più l'esperienza. In terza posizione troviamo la TV LED HKC da 43 pollici disponibile sia più grande che più piccola in base alle vostre esigenze, risoluzione dello schermo Full HD con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ricezione analogica, DVB-T2 terrestre, DVB-C2 cavo, DVB-S satellite, con connettori disponibili HDMI, USB e SCART. Televisore con classe di efficienza energetica A, in consegna vi verranno dati il telecomando con batterie, il supporto, il manuale e la scheda di garanzia, per maggiori informazioni controllare il link in descrizione. In seconda posizione troviamo il televisore Philips con Ambilight da 43 pollici che stende lo schermo sulla parete usando luci LED intelligenti dietro alla cornice del TV e riduce l'affaticamento degli occhi. Immagini vivide e più nitide con questa TV Ultra HD 4K, il processore per la qualità d'immagine P5 Perfect Picture crea un contrasto migliore, movimenti più fluidi con maggiore profondità e tonalità della pelle naturale, dotato di Dolby Vision e Dolby Atmos che rendono i contenuti HDR che guardi visivamente e acusticamente realistici, Alexa integrata per facilitare la ricerca e la visione dei vostri programmi preferiti. In prima posizione troviamo la Smart TV Samsung 4K Ultra HD per offrire un'esperienza visiva di ottima qualità grazie al sistema HDR powered by HDR10+. Nessun cavo in vista grazie alla soluzione Clean Cable, design elegante e sottile per adattarsi al meglio ai vostri ambienti casalinghi, Universal Guide e Alexa per semplificarti molto la vita nella ricerca e selezione dei programmi o delle applicazioni che desiderate, ottimo televisore con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e classe di efficienza energetica A, per altre informazioni consultare il link in descrizione. Bene ragazzi anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate tutti i link degli articoli in descrizione e se siete interessati, grazie per aver visto tutto il video ci vediamo al prossimo. Grazie a tutti.